Non sono capace con panza, non aveva criança, sapete? Cuppei di tiracaveni, ecco bene se il divan della la gerantola. 8 euro, 8 euro, 8 euro, 10 euro, 10 euro, 13 euro, 13 euro, 13 euro, 13 euro, 13 euro. 13 euro, 13 euro 1, 13 euro 2 e 13 euro 6.